Una cena e vento per sostenere l'associazione sportiva All Stars Ollus di Arezzo. Si chiama Abracciami Winter il 18 gennaio ad Arezzo Equestrian Center. La macchina organizzativa è a pieno regime perché tutto sia pronto per questa data. Una ricorrenza importante per atleti speciali, familiari e tecnici che per la prima volta si svolge in queste dimensioni per raccogliere fondi a favore dell'ASD All Stars Arezzo Ollus che attraverso le attività motorie e sportive si impegna da oltre un decennio nello sviluppo delle abilità e dell'inclusione sociale di bambini, bambini, adolescenti ed adulti con disagio e disabilità intellettiva. Abracciami Winter 2014 è una serata di raccolta fondi. La raccolta fondi andrà ad alimentare le attività dell'associazione sportiva All Stars Arezzo Ollus e grazie a Cattolica Assicurazione la serata si spera sia veramente una raccolta fondi importante in quanto tutti gli invitati acquistando il biglietto della serata che prevede un aperitivo, una scena e un dopocena con la musica degli Umagroso andranno tutti a noi devoluti all'associazione All Stars Arezzo Ollus. Quindi questa per la nostra associazione negli anni è la prima volta che partiamo diciamo da spese zero e tutto quello che ne deriverà lo potremo utilizzare per il progetto Fit for Life, ovvero le varie attività motorie, sportive, artistiche, ricreative che l'associazione All Stars e le associazioni collegate al gruppo All Stars mettono in atto per bambine e bambini e adolescenti in particolar modo ma anche per gli adulti, attività tra le quali l'equitazione. L'equitazione prevede un affitto importante, prevede le strutture della Red Soquestion Center e appunto all'Arezzo Equestion Center per l'occasione, capendo le finalità ci ha messo a disposizione la sala VIP dove speriamo di arrivare ad ospitare alcune centinaia di persone della città di Arezzo. La nostra agenzia è da sempre impegnata a fianco dell'associazione di volontariato e quindi di tutto ciò che riguarda le realtà più difficili, più deboli e siamo molto felici di partecipare a questo ascen evento. Ci auguriamo che in questo modo l'associazione All Stars possa contribuire ad aumentare le attività per i ragazzi, per i bambini che sono al loro interno e quindi siamo molto felici di partecipare a questo ascen evento e ci auguriamo che il suo successo sia grande e sia ripetibile nel tempo.